fare lungare sembra più che prendere i punti che per provare un'azione da così lontano intanto abbiamo superato che pega punti di meno 24 al passaggio 48, 221, 48, 221 e due punti per guarda che la rally intanto salta un'ulteriore eliminazione prima eliminazione a meno 11 prima eliminazione a meno 11 intanto salta un palio di meno 23 prossimo passaggio, il palio di punti di meno 22 con Siria Montico davanti poi Giulia Bedonna che si fa vedere nelle prime posizioni Montico, Bedonna, Presti con Minghi leggermente staccata in quattro posizioni queste tre possono provarci possono provarci punti di meno 22 32, 161 321, 61 sono sempre Giulia Presti e Siria Montico a dividersi i punti adesso hanno preso un po' di vantaggio ma sembrano intenzionate ad aspettare il gruppo quando suona la campana di meno 21 Montico, Presti Bedonna, Sinisi sono in 3 davanti adesso è con tantissima la tattica vediamo se parla Giulia Bedolla non la lascia abbassare Giulia Presti con la sua caratteristica patinata molto abbassata con la schiena punti di meno 20 161 1,6 1,42 4,2 Presti Bedonna, Montico, Sinisi sembrano proprio trovarsi quasi quando sono la campana di meno 19 intanto un bravo vantaggio di punti bene, 9 punti di vantaggio di Giulia Presti si stendiamo in Tico due delle nostre junior più forti a livello nazionale e non solo salta intanto un'altra eliminazione prima eliminazione a meno 9 ma intanto il passaggio punti di meno 18 161 1,6 1,42 4,2 risale in agenzifica Giulia Bedolla che adesso dovrebbe essere eh sono rimaste in 5 il resto del gruppo sembra un po' faticato con Sofia Battiagio che prova l'inseguimento al passaggio campana a meno 17 mancano ancora 8 giri nella prima eliminazione con Presti Bedolla Montico Sinisi Minghi al passaggio punti di meno 16 punti punti point 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 punt 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 fanno la volata anche punti di meno 16 16 161 42 1,6 1,4,2 risale Giulia Bedolla che prende un altro punto adesso in testa il gruppo ma sembrano quasi quasi aspetare gli altri comunque non forzare l'andatura non hanno intenzione di andare in fuga rimane attaccata con le unghie con i denti Margherita Minghi la quinta di questo gruppo di testa intanto suona la campana di meno 15 al passaggio punti di meno 14 mancano 5 giri alla prima eliminazione e adesso anche se rallentano comunque guadagnano e ragazzi è una questione vostra Giulia Bedolla si mette in testa al plotoncino sulla curva che mette il suo rettilineo finale punti di meno 14 42 161 4-2 1-6-1 con Giulia Bedolla che si porta in zona podio ufficiosamente 24 punti per Giulia Pasti 11 per Siria Montico 6 proprio per la ragazza di Bellusco con ormai famosa non solo per la treccia sul davanti ma anche per i pattini diversi uno dall'altro se ne conosce dall'organo numero 95 prima armonizione 95 al passaggio punti di meno 12 e poi fra tre giri cominciano anche le eliminazioni Bedolla Presti Siria Montico poi Sinissi poi Minghi punti di meno 12 42 161 ma intanto prova Siria Montico all'esterno e adesso dice non ci prova adesso non ci prova più Siria da qualche anno miglioratissima e sono lei e Giulia Pasti che adesso penso che andranno avanti suona la campana di meno 11 e adesso se ne vanno e adesso se ne vanno loro due sono le due fondiste più forti a livello nazionale già più volte a sud punti di meno 10 ultimi due chilometri dal prossimo giro cominceranno le eliminazioni 161 32 si abbiamo un tico siamo a meno 9 qui sarebbe campana ma non è campana perché eliminazione al passaggio eliminazione 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 prima eliminazione di questa gara 05 6 numero 233 eliminata 233 Emma Emma trovo eliminata grazie Emma che smette di pattinare e intanto sono stati assegnati anzi adesso c'è la seconda eliminazione a meno 7 al passaggio precedente punti 161 32 eliminazione al passaggio eliminazione eliminazione al passaggio 352 352 Marta Viscuola grazie Marta e punti al passaggio 161 32 anche due punti per Giulia Mastri che supera la quota 30 punti ma intanto al passaggio dovrebbe esserci l'eliminazione infatti altra eliminazione al passaggio 95 atleta eliminata 9-5 Ione Manzotto grazie Ione punti al passaggio sono Ione punti passacche Ione li ha Bedon che adesso è terza in classifica ok ok l'atleta 22 Fero Massi numero 22 Sofia Bocconi è stata doppiata quindi Sofia Bocconi numero 22 grazie Sofia Giulia Mastri ha superato il gruppo ha doppiato tutti invece Siria Montico rimane dietro il gruppo al passaggio sono punti di meno 2 161 32 223 fermarsi 2 2 3 Martina Poeta fermarsi 223 grazie Martina a fare l'ultimo giro per Giulia Presti con Silia Montico contentissima del suo argento ed è una cavalcata trionfale per Giulia Presti vi ha 34 punti e ci sono anche quelli del traguardo finale Giulia 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 Presti ufficiosamente in seconda posizione un applauso anche per lei Silia Montico grazie